Ciao. Ciao. Ti ho riportato questo e l'hai lasciato in aereo. Sì. 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 Sei tornata. Tu che dici? Sì. 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 Credevo che non c'era più niente da fare. Che mi avresti lasciato per sempre. Come faccio? Con le cose belle che mi dici? Sì. Pane e olio. Ti offendi se ti chiamo pane e olio? Non mi offendo. Sei stato carino bene in aereo. Con tutta la paura che hai. E scrivi delle cose che mi fanno piangere. sei bella. Sei troppo bella. Sei troppo bella. Sei bella. Sei troppo bella. Sei bella. www.eständicotipari.com www.eständicotipari.com Sono partito di casa e se rega. Grazie a tutti.